Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial Ragazzi in questo nuovo tutorial vi spiego come trovare la nera fiamma e la lama della nera fiamma Ragazzi legatevi qui alla cella isolata dove sta Godric l'innestato Quindi legatevi qui, dobbiamo proseguire da questa parte perché dobbiamo prendere un breviario Anche se corri questi ti prendono Eccoci qua In questo tipo di cantina, questa cantina della bottica del vino Mi raccomando Dovete avere la chiave della spada di pietra Mi raccomando non scappare perché dobbiamo fare un'altra cosa poi Eccolo qua, il sigillo Vabbè se avete già un sigillo Ed eccolo qua, il breviario del Sacri Terma Quindi per chi ha affrontato il Sacri Terma Poi avremo i suoi stessi poteri quando incendiava la sua lama E quando ci lanciava quelle palle della fiamma nera Una volta fatto ragazzi legatevi qui Dobbiamo andare alla chiesa di voi Dobbiamo parlare con la tartaruga gigante Quindi la tartaruga gigante accetterà il nostro breviario E in cambio poi noi studieremo i suoi incantesimi Poi mi raccomando seguite la sua storia Perché potrebbe anche servirvi per fare le sue missioni Ed eccoci qua Vi consiglio il breviario Ed eccolo qua Quindi offro il breviario del Sacri Terma Studiamo gli incantesimi Eccolo qua La nera fiamma E la lama della nera fiamma Quindi ragazzi grazie per questa versione E noi ci vediamo al prossimo tutorial Ciao Ciao Ciao